Il Krav Maga ha un'influenza sul fatto che uno pratichi altre arti marziali o sport a combattimento? Detto in modo molto semplice, il fatto di fare Krav Maga interferisce con l'apprendimento di altri sistemi? Oppure il fatto di aver fatto altri sistemi interferisce con l'apprendimento del Krav Maga? Risposta breve, no. Molto spesso il Krav Maga viene pubblicizzato e venduto come qualcosa di superiore ad altri sistemi. Non esiste niente di superiore ad altri sistemi, esiste solo qualcosa che è più adatto in previsione del fine che uno vuole raggiungere e sulla base di quelli che sono gli strumenti e la struttura che già possiede. Venendo al Krav Maga in particolare, il Krav Maga è un sistema che si sposa estremamente bene con i sport da combattimento e con le arti marziali, a meno che uno chiaramente non voglia dedicarsi completamente a un'arte marziale e di conseguenza non voglia nessuna influenza. Detto questo, per quello che concerne la parte inerente alla difesa personale, quindi quel comparto, quel nucleo forte che consente alla persona di potersi difendere quando colta di sorpresa o quando in forte stato di stress, quindi non parliamo di una situazione di combattimento conclamato, per quanto riguarda questa parte, il Krav Maga può tranquillamente abbinarsi a qualsiasi cosa. Perché? Perché il sistema di difesa è progettato per agganciarsi quanto più vicino possibile a quelle che sono le reazioni naturali. Un sistema di combattimento invece è evoluto, un'arte marziale o anche un sistema di combattimento sportivo, sono agganciati a un sistema di stress, diciamo, minore e controllato. In parte perché chiaramente la pratica marziale, così come gli sport da combattimento, forse in modo un po' più accentuato chiaramente, abituano la persona a gestire da subito lo stress del combattimento uno a uno. E in parte perché il combattimento di per sé è un qualcosa di sofisticato, non è qualcosa di naturale. Colpire con i pugni, colpire con le mani, calciare in modo efficace è qualcosa che va appreso. Per cui il Krav Maga, se immaginiamo una linea che ha a che fare con il proprio grado di sorpresa e la, diciamo, minore sofisticazione delle tecniche, si aggancia molto molto in alto, molto vicino a quelle che sono le reazioni automatiche di difesa e protezione. Più in basso troviamo altri sistemi, che chiaramente sono sistemi evoluti e che attengono al combattimento vero e proprio. Per cui, detto questo, il Krav Maga non influenza, se parliamo di difesa personale pura, qualsiasi sistema. Se invece parliamo del sistema di combattimento, ovviamente ci possono essere delle difficoltà, dei contrasti anche, se la persona segue dei sistemi di arti marziali tradizionali che, per vari motivi, tra cui anche semplicemente la tradizione, seguono degli schemi motori che sono diversi. Il Krav Maga, da questo punto di vista, è molto più simile a sistemi di combattimento sportivo e, se volessimo proprio fare un paragone, è molto più vicino all'NMA come concetto e come biomeccanica. È ovvio che, se consideriamo un combattimento che, ipoteticamente, senza protezione, senza regole, molte cose vanno adattate e altre, considerando anche quella che potrebbe essere la realtà di uno scontro, appunto, diciamo, per strada, io detesto questo termine, ma al momento non è uno migliore, chiaramente alcune cose sono molto meno plausibili. Però, se parliamo di combattimento, sicuramente la vicinanza migliore è quella con sistemi sportivi di combattimento. Considera, infatti, che il Krav Maga, come derivazione, come radice da parte del suo fondatore, ha la box, perché Imi era un boxer, Imi Lichtenfeld è il fondatore del Krav Maga, quello che viene considerato il fondatore del Krav Maga, Imi Lichtenfeld era un boxer, era un lotatore, agonista nell'uno e nell'altro, era un ginnasta, quindi una persona che sapeva bene come muovere il proprio corpo, ed era una persona che aveva una certa conoscenza di jiu-jitsu giapponese per quello che gli aveva insegnato il padre, che era un noto poliziotto, un noto, a dire il vero, e ben rispettato poliziotto. Più due anni circa di combattimenti reali per strada, risse, a mano nuda, con delle armi in gioco, uno contro uno, alle volte gruppo contro gruppo. Queste sono le origini del Krav Maga, quindi combattimento sportivo, situazioni reali per strada, e alcuni elementi di arti marziali e capace. Quindi il Krav Maga, avendo queste origini, ben si adatta a moltissimi sistemi. Come sempre il concetto è essere capaci di saper distinguere, separare, e quando è necessario, diciamo, tornare ad essere dei fogli bianchi, se si vuole imparare qualcosa di nuovo. Grazie a tutti.